...quantitativa, come dicevo, ma anche di grande qualità. Tanti amici, grazie a Giulietta... All'incontro organizzato da Scelta Civica per l'Italia era previsto l'intervento anche di Lorenzo Dell'Ai, ma un contrattempo ne ha impedito la presenza in Molise, ragion per cui nell'incontro di Pozzilli con i sostenitori della lista Monti-Provincia di Isernia, il ruolo di protagonista lo ha assunto Michele Scasserra, l'assessore alle attività produttive della regione Molise, candidato alla Camera per la formazione politica creata dal Presidente Monti e a Pozzilli Scasserra ha spiegato i motivi della sua discesa in campo, o meglio, come dice proprio Monti, della sua salita in politica. Perché ritengo, insieme agli altri amici, abbiamo ritenuto che sia sicuramente la scelta più consona alle nostre personalità, alla nostra voglia di fare politica, alla nostra possibilità di portare società civile, concreta, persone che effettivamente vogliano impegnarsi in un'organizzazione che abbia carattere regionale, ma grandi riferimenti anche a livello nazionale, guidata dalla serietà del primo ministro in carica di Mario Monti, nel quale crediamo davvero molto. È sempre Michele Scasserra ha spiegato perché l'Italia ha ancora bisogno dell'azione di Mario Monti, anche nel nuovo scenario politico che nascerà dalle prossime elezioni. Monti ha fatto molto e noi lo apprezziamo. In funzione di quello che è stato fatto per non voler disperdere i sacrifici, ma proprio per cercare di capitalizzarli, vogliamo impegnarci per l'amministrazione del nostro territorio, della nostra regione, portando nelle istanze a Roma e iniziando a costruire qualcosa che possa durare nel tempo anche qui. Noi ci mettiamo la faccia, stiamo ancora aspettando di vedere chi sono i candidati alla Camera e i debutati delle altre liste, vorremmo confrontarci anche con loro per misurare gli impegni che ognuno di noi vuole portare avanti.